Continuano ad aumentare anche nel nostro territorio i casi di autismo. Nel 2012 erano 39 minori in carico all'unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile della SST di Lecco. Nel 2021 sono stati 262 con 81 nuove diagnosi e un incremento in particolare tra i minori di 3 anni. Dati in linea con quelli nazionali, l'incidenza è di un bambino ogni 77. L'autismo è un disturbo dello sviluppo che implica soprattutto scarse acquisizioni sociali. Per cui il bambino con autismo, nelle diverse modalità legate all'età, fatica a relazionarsi col mondo, con i genitori e con l'ambiente, sia familiare che scolastico. E inoltre presenta delle stereotipie motorie e sembra assorto un po' nel suo mondo, tanto è vero che autismo viene da autos, stare in se stessi dal greco. I dati dicono che c'è un aumento molto significativo delle diagnosi e questo può avere svariati motivi, compreso una maggiore sensibilità al problema, compreso l'impegno e riconoscimento di quadri sempre più precoci ed anche un po' ai criteri del DSM V che hanno allargato un po' le maglie della diagnosi. Anche noi abbiamo visto nel servizio un aumento considerevole dei casi. Si considera che nel 2021 abbiamo avuto 260 pazienti in carico, di cui 81 nuove diagnosi, cioè nuovi casi giunti al servizio. Sono davvero tanti e implicano un impegno riabilitativo notevole e risorse notevoli. La SST di Lecco ha introdotto un'innovativa metodologia per individuare i disturbi dello spettro autistico anche tra i più piccoli. Ha organizzato un corso di formazione specialistica dedicata agli operatori, supervisionato dalla professoressa Costanza Colombi, esperta di fame internazionale nella diagnosi e nel trattamento dell'autismo nella prima infanzia. È un metodo innovativo che prevede l'osservazione del bambino, le sue tappe di sviluppo raggiunte e promuovere percorsi riabilitativi evolutivi. Inoltre è prevista anche la partecipazione dei genitori, una partecipazione attiva proprio alle sedute. Più il trattamento è precoce, più la diagnosi è precoce, più le possibilità che questi bambini rientrano in linee di sviluppo più regolari aumentano.